A Trivio di Castel San Giorgio ritorna la sagra della pasta e fagioli e della pannocchia. Dal 25 al 28 agosto negli ampi spazi dell'associazione San Michele Arcangelo andrà in scena la 32esima edizione. Come sempre ci sarà la possibilità di gustare l'inimitabile pasta e fagioli, le pannocchie, il mais fritto, fantastici panini, compreso quello con la milza. Quest'anno due novità della tradizione contadina, pasta e fagioli con i fagioli corna dei signori e pomodoro nobile e la frittatina di pasta e fagioli con la collaborazione del pub Leremo. Il tutto accompagnato da ottimo vino locale, dolci tipici e per chiudere in bellezza, musica e balli con divertimento assicurato. A Trivio di Castel San Giorgio dal 25 al 28 agosto la 32esima sagra della pasta e fagioli della pannocchia, solo i 300 metri dall'uscita autostradale a 30, assolutamente da non perdere. A Trivio di Castel San Giorgio dal 25 al 28 agosto la 32esima sagra della pasta e fagioli della pannocchia, solo i 500 metri dall'uscita di pasta e fagioli della pannocchia, solo i 500 metri dall'uscita di pasta e fagioli della pannocchia.